Allora, ecco i partecipanti all'estrazione e al sorteggio del procedimento del torneo doppio giallo, come vedete Prestimino Sbragato, il dottor Presidente Marco Lord Rudan, Margherita il comitato, cioè lei, il comitato, Gaglione Filippa e il sottoscritto, non so come dire, così comunque Allora, questo è il tabellone, abbiamo provveduto all'estrazione, l'estrazione tra i risorteggiati è venuto fuori Mauro Pecchioli e adesso si andrà a estrarre il tabellone dall'alto verso il basso Via! Uno Margherita e uno... come prendete come uno? Grazie pure prima Che io d occasioni prima? Eheh noi dai, uno dai due cifu, dai Presti lino? Nooo però chinesi chie anime!! Nooo... leah.... leahangasi qui è remained bravo Vai, prendetele 1 e 1 Allora, questi due sono stati fatti Allora, prendi Filippo, prendene 1 Benetti Benetti con... Benetti e... Giorgi! Andiamo! Come vede? No! No! Benetti e Giorgi con... Vai a vedere che doppio terribile Sì, subito, subito Vai, vai, prendiamo A mio amico Guardate, ce ne prendo una io Poi, me la leggete questa chi è? Allora, perrafato E se prendo io? E l'altro lo proteggo io E Corrado, mi proteggiono Un grande doppio Mamma mia Vai Fabrizio Tron Fabrizio Tron con Con... No, quell'altro Ah no, al fratello Con Rudano Rudano Rudan Rudano Ma dai, devi farla portare il portatore Rudan Tron Pesca, Rudan Pesca Pesca Marco Io già appoggio il nuovo completino Eccoli Biancolillo Forse un altro Biancolillo con... Andrea, dai, pira fuori Rosini Eugenio Eugenio Ok Ci avevano capitati due Poi, questo, prendi, me lo scegli Tu me lo prendi questo Biancolillo Poi l'ho scelto io Poi l'altra coppia è... Pecchioli Pecchioli Pecchioli, Mauro Ronzo Ronzo Wow Bello Bello Contro Contro gli ultimi due Che sono sicuramente Masuzzo Masuzzo E Gira Carcani E Carcani E Carcani Masuzzo Carcani L'ultimo Sono Volpi Vitale Che sono le due persone Ripescate Praticamente ripescate Perché erano state abbandonate dai compagni Ma si erano presentate Perciò